A Rimini sesta edizione del festival della canzone per leo, un'esibizione inedita di giovani talenti italiani nel segno dell'amore per l'arte e della solidarietà. Un'esplosione di musica, danza e arte. Sul palco del teatro Amici di Rimini è andata in scena la sesta edizione del festival della canzone per leo, una performance in cui si sono esibiti giovani artisti. 70 ragazzi hanno partecipato alla realizzazione e produzione di questo spettacolo per ricordare come ogni anno la scomparsa di Leo Amici, l'uomo che nel 1982 creò una serie di strutture a sostegno dei malati, orfani e anziani. Un progetto promosso dall'omonima fondazione Amici, coordinata e voluta da Carlo Tedeschi, che ne è da sempre direttore artistico. Una fucina di talenti, un laboratorio avanzato per dare spazio a quei ragazzi che oltre ad essere musicalmente dotati, manifestano una forte sensibilità verso le tematiche della condivisione, del rispetto dell'altro, della pace. Prossimo TG1 alle 9.52, arrivederci.